Faccia a faccia con il sindaco di Alife Cirioli in questa lunga intervista esclusiva nel corso della quale il primo cittadino parla senza freni di politica del dissesto finanziario poi approvato e ritenuto illegittimo dall'opposizione di una maggioranza che perde pezzi e nella seconda parte ha poi parlato di una delle più vergognose pagine di cronaca nera per il tranquillo comune di Alife. Due macchine mandate in fiamme nella notte fra sabato e domenica scorsa come riportato dalla cronaca fra le quali quella del primo cittadino di Alife appunto che il giorno successivo aveva il consiglio comunale un atto per il quale tutti in una prima fase avevano il sospetto che si trattasse di una matrice politica ma che a noi ci era sembrato subito un atto al di fuori della politica ma che ancora oggi i carabinieri stanno indagando per scovare i colpevoli. Ma sentiamo come il sindaco ci ha poi raccontato i fatti politici e poi quelli di cronaca. Allora sindaco da che parte cominciamo? Diciamo prima dall'aspetto politico. Secondo lei questo dissesto si poteva evitare o no? Allora come ho spiegato in consiglio comunale il dissesto era l'unico mezzo di salvezza per questo comune indebitato oltremodo con un preventivo con uno schema di bilancio preventivo con oltre 7 milioni e 900 mila euro di debiti e che già sono aumentati perché sono venuti fuori altri 200 mila euro di debiti fuori bilancio con dei credi ingiuntivi che arrivano ogni giorno e quindi era l'unica l'unica possibilità che avevamo la possibilità alternativa perché oltretutto il dissesto sui rispetto di alcuni numeri l'alternativa per la politica è quella di truccare i bilanci ma qui sarebbe stata una cosa enorme perché camuffare 7 milioni e 900 mila euro di debiti sarebbe stata un poco una cosa fuori luogo. Poi io mi sono ripromesso ho fatto una campagna elettorale sulla legalità e sull'onestà e sulla trasparenza quindi lungi da me fare cose non lecite non legali e quindi a questo punto appare normale che l'unica cosa era fare il dissesto. Sindaco si parla di un debito nella sua gestione di oltre un milione ecco che cosa ci può dire in merito? Non c'è nessun debito nella mia gestione anzi noi ci siamo trattenuti oltremoto per le spese il problema è che noi stavamo agendo e amministrando su un bilancio completamente falso che poi è stato rifatto completamente e chiaramente se i funzionari mi dicevano che su un capitolo erano presenti dei soldi e poi non c'erano chiaramente questo poi comporta dei debiti. Comunque le dico che abbiamo ridotto al massimo abbiamo contratto le spese poi se avremo tempo perché ci sarà molto da parlare perché le cose che ha fatto questa amministrazione possono non sembrare appariscente agli occhi della gente ma alle casse del comune hanno fatto introitare parecchi soldi. Sindaco si parla di una seduta illegittima? Allora la seduta non è non è illegittima e le spiego anche perché perché a monte di questa la seduta sarebbe stata illegittima se l'argomento fosse stato trattato per intero. Siccome a monte di questo argomento c'era una proposta dell'opposizione di rinviare il consiglio poiché questa proposta non è stata messa ai voti perché è caduto il numero legale va da sé che se la proposta non viene approvata non possiamo sapere se l'argomento può essere discusso oppure no. Quindi questa è la prova approvata che il consiglio in seconda convocazione era validissimo. Poi se loro vogliono, se queste persone vogliono, vogliono impugnare la delibera sono liberissime di farle e poi vedremo chi ha la ragione in seguito. Sindaco perché questo dissenso tra la maggioranza? Perché c'è chi deve difendere cose del passato perché purtroppo il dissenso comporta anche l'individuazione delle responsabilità degli amministratori precedenti che hanno causato il dissenso e la generazione del danno erariale che poi dovrà essere coperto da chi ha causato il dissenso. Purtroppo io capisco e comprendo che chi è stato nelle precedenti amministrazioni ha da temere qualcosa. Quello che non capisco sono state le altre due defezioni, le assenze delle altre due, però ognuno è responsabile. Io per primo ho detto che di fronte a decisioni così importanti bisogna assumersi la giusta responsabilità, bisogna essere coscienti di quello che si va ad approvare ed ognuno è libero di comportarsi come vuole perché questa non è una decisione che può riguardare i partiti, il singolo partito, l'utilità del partito, ma è una decisione che riguarda tutta la collettività e bisogna prendere con tutta la coscienza e con tutta l'impegno e la determinazione possibile. Sindaco, c'è una notizia che ci è prevenuta in redazione, secondo la quale uno dei componenti della maggioranza che in questo momento è in un atteggiamento critico nei suoi riguardi avrebbe chiesto qualcosa a lei, qualche assessorato, che cosa c'è di vero? Allora, per il momento non mi sono giunte richieste in questo senso, ma io come sono fatto e chi mi conosce lo sa bene, io rispondo soltanto davanti agli elettori. Penso che chi non ha votato il dissesto non possa accampare nessun tipo di pretesa alcuna e farebbe bene anche a tenere un profilo molto basso perché probabilmente ha tradito anche i cittadini. Se dovessero giungere proposte del genere io le rimando al mittente e sono pronto a dimettermi anche domani mattina perché come ho detto l'altra sera in conferenza stampa io rispondo soltanto ai miei elettori, ai miei concittadini, sono per la legalità e per l'onestà e questa onestà mi spinge a non scendere a trattative con nessuno. Io agisco soltanto, e questo deve essere ben chiaro, agisco solo per il bene della collettività di Alipa. Di fare il sindaco a me non me l'ha ordinato il medico e nessun magistrato. Anche perché lei è un medico. Io sono un medico, quindi io se da domani mattina non faccio più il sindaco ne guadagno di salute, di soldi e posso dare più affetto alla mia famiglia. Sindaco, l'ultima domanda di questa brutta pagina di cronaca, ecco il fatto che hanno incendiato due macchine e tra le due c'era anche la sua. Lei ritiene che possa essere un fatto collegato al fatto politico proprio? Io penso e spero che non ci sia nessuna correlazione perché altrimenti ci troveremo di fronte a un quadro della situazione gravissimo perché questa zona è una zona o era una zona ancora libera da questo tipo di problematica quale la criminalità organizzata. Se dovesse risultare, io spero e lo ripeto di nuovo, non penso che ci fosse un legame con il Consiglio Comunale e con l'attività politica da mesvolta sarebbe una cosa gravissima per questo territorio e veramente dovremmo abbandonare tutto e dire che è finita perché non vale la pena più di lottare. L'ultima domanda davvero, questa situazione la scoraggia? No, io quando mi sono candidato, mi sono candidato per cercare di risollevare la situazione di Alife nei comizi, chi ha sentito i comizi ho detto non vi prometto niente perché non so la situazione che trovo l'unico impegno che posso prendermi è quello di risanare le casse del Comune e di fatto è la prima cosa che ho fatto perché con il dissesti io penso che sia il metodo più rapido per sanare le casse del Comune. L'alternativa sarebbe stato il riequilibrio ma è una cosa che non è gestibile perché le nostre entrate non possono far fronte alle spese che sosteniamo con il Comune e anche perché i nostri uffici non funzionano ancora come dovrebbero funzionare perché fare il riequilibrio significherebbe gestire in house il ripianamento del debito anche se in dieci anni e i nostri uffici purtroppo invece di andare a mille come dovrebbero andare in caso di una problematica del genere sono purtroppo per carenza di personale per persone che stanno ai limiti della pensione non sono all'altezza di gestire una situazione così difficile e rischieremo di fare il dissesto nel riequilibrio che sarebbe la cosa peggiore che potesse capitare ad un Paese, a un Comune. Da Alife è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it Grazie mille.it Grazie mille.it Grazie mille.it Grazie mille.it Grazie.